Dunque, per trovare Eli l'elefante, devo cercare uno spazio grande, foglie e tanto fango. Dove posso trovarlo? È davvero complicato! Ma manca ancora qualcosa! Che cosa manca? Hanno detto che sono preoccupati per il vulcano! Beh, se si tratta del vulcano, la cosa è allarmante! Blaze, sta eruttando! Il vulcano! Andiamo via da qui!